Elezione europea 2014, la lista dei comunisti italiani non è stata ammessa alla competizione elettorale. Oggi a Milano una conferenza stampa di Marco Rizzo. Ascoltiamo le sue parole. Il 25 aprile questo sistema sta escludendo il Partito Comunista dalla competizione elettorale europea. Noi inviteremo i nostri elettori a disegnare la falce martello sulla scheda, ma più che tutto a portarla nelle piazze e nei luoghi del conflitto sociale, perché il Partito Comunista nasce da lì.